Questa associazione che è internazionale e che è molto diffusa su tutto il territorio di fatto è anche molto vicino ad alcune aziende, le aziende dico io virtuose che sono quelle che ci aiutano a diffondere il tema della prevenzione. In questo caso lo abbiamo fatto un bellissimo progetto con Avon e con le loro ambassador perché abbiamo creato una serie di pillole video per dare degli strumenti alle loro ambassador, quelle che tanto per dire sono vicine a loro volta alle loro clienti per quanto riguarda la loro vendita e come parte della conversazione specialmente nel mese di ottobre che è il mese della prevenzione abbiamo individuato queste pillole video nelle quali con in un minuto vengono a conoscere gli elementi base chiave per indurre anche le altre donne a continuare a fare prevenzione e se non lo fanno a ricordare loro che bisogna fare. Grazie.